È un onore e un onere anche aprire al primo dibattito di Sherwood Festival e non potevamo che cominciare con una frase La migliore vita sociale è la vita condotta collettivamente, la vita comune Tony Negri, a cui va il nostro immenso ringraziamento e a cui abbiamo dedicato questo festival Ecco, un primo dibattito che arriva all'indomani delle elezioni europee delle elezioni che hanno visto l'ascesa delle destre in tutta Europa la vittoria del primo partito di governo in Italia ma forse, magari forzando un po' anche le burocrazie delle proclamazioni ufficiali la liberazione dalla misura cautelare in Ungheria di Laria Salis Ilaria ha preso 174.000 preferenze rotte e potrà a salvo forzature godere dell'immunità parlamentare e fortunatamente uscire dal pozzo dopo 15 mesi di detenzione e qualche settimana in arresti domiciliari sempre in Ungheria ma vi immaginate se tutti coloro che sono ingiustamente in carcere o in misura possano un giorno godere finalmente della libertà? forse così è un po' semplice metterla giù in questi termini rendiamola ancora più difficile vi immaginate se anche i condannati in ultimo grado quindi non più presunti innocenti potessero essere fuori dal carcere? questo è un po' più difficile, un po' più strano da immaginare ma poi perché abbiamo deciso di associare l'abolizionismo al femminismo? tanti me l'hanno chiesto ma che senso hanno da mettere insieme? è vero l'espressione femminismo abolizionista implica una bella dialettica ma vive anch'essa di dubbi e contraddizioni eppure ci fa arrivare alla convinzione che le teorie e le pratiche abolizioniste siano più convincenti quando sono anche femministe e allo stesso modo che un femminismo che è anche abolizionista costituisce una versione di femminismo moderna, inclusiva e persuasiva il femminismo abolizionista è una sorta di impegno politico che riconosce la relazione tra la violenza di stato e la violenza individuale ebbene oggi con questo dibattito cercheremo di andare anche contro i nostri limiti contro i nostri pregiudizi e cercheremo di rispondere a quella domanda perché si deve osare? dobbiamo però metterci tutti in un ordine di idee più fattibile nell'infattibile questo è un percorso, un semplice dibattito non sarà una serata che darà risposte finali sarà un piccolo mattoncino sulla quale creare delle pietre angolari future da collocare tutti e tutte insieme ma fortunatamente non sono da sola qui a parlare di tutto questo ad affrontare questo peso qui con me, alla mia sinistra Stefano Anastasia garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio tra i fondatori dell'Associazione Antigone docente di filosofia e sociologia del diritto e di sociologia della devianza istituzione e controllo sociale e tra gli autori del noto libro abolire il carcere per chiare lettere ultima edizione 2022 uno dei primi libri in Italia a parlare di questo tema invece alla mia destra Valeria Verdolini sociologa del diritto e attivista e presidente di Antigone Lombardia e eh è da segnalare la sua postfazione aboliamo le prigioni di Angela Davis per minimum fax nel 2022 la vedete in collegamento direttamente da Glasgow Giussi Palomba traduttrice e scrittrice si occupa di organizzazione comunitaria il suo ultimo libro la trama alternativa sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere per minimum fax edizione 2023 grazie mille a tutti e tutte per essere qui